Che sei nei cieli, 21 luglio 1969. Riprendo, figlia cara, la lezione sul Padre Nostro. Io vi ho insegnato a dire, Padre Nostro, che sei nei cieli, e ti spiego. Dio è immenso e infinito nella sua grandezza e perciò riempi di se stesso l'universo, ma la sua residenza particolare è il cielo, da cui lo domina. Perciò, invocando il Padre, alzavo gli occhi al cielo, come quando lo ringraziavo. Tu sei immersa in Dio, al quale nessuno può sottrarsi, ma ama di rivolgere lo sguardo e il pensiero al cielo, invocando il Padre, perché i tuoi pensieri si elevino al di sopra delle cose della terra e la visione del cielo ti ricordi ciò a cui sei destinata, il Paradiso. Sarà un invito a salire ogni giorno nella perfezione, tendendo la mano ai fratelli che con te sono incamminati verso la patria. Quanto ti sembrerà meschino tutto ciò che avviene nel mondo, se avrai l'animo peso alle cose celesti. Abbi sempre l'ansia di arrivare nel seno del Padre, per non attardarti e perderti nelle futilità della vita presente.